Gli anni passano tra ricevimenti fastosi, unioni insolite e rivelazioni travolgenti, ma non portano quiete per i membri della famiglia Gansky. Dopo l'età dell'oro, ritornano giorni foschi. Qualcosa di terribile incumbe superdito i suoi abitanti e i suoi fiumi. Il tempo delle profezie è ormai giunto. Il tempo delle profezie è ormai giunto.